Partita tirata quella tra la Santa Severina e il San Mauro Marchesato, terminata con il 2 a 1 in favore dei padroni di casa. Partita tirata dicevamo perché poteva consentire ad una delle due di riportarsi nel zona playoff e il che è riuscito alla squadra di casa che appunto si porta a ridosso proprio del Real Fondo Gesù e dell'Atletico Maida. Partita decisa dai gol di Iallovo nel primo tempo per quanto riguarda il Santa Severina. Poi c'è stato il pareggio da parte di Palermo del San Mauro e il gol finale di Affatato che consente proprio alla Santa Severina di venire a capo di questa partita per 2 a 1. Un risultato importante come dicevamo proprio per la classifica di entrambe. Grazie. 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 Grazie.